Mi stanno tirando messaggi, signor Leone, a loro subbari, no, amici miei, però io sono questa la stessa, adesso gli estratti forti saranno 88 e 89, ma vi ripeto, specialmente in che ha la super triade d'oro e il lotto super cio, metteteli in gioco perché saranno di una rapidità, ve l'ho spiegato già io, mi ringrazio tutti i messaggi e tutti gli scorri dirigenti, non si è capito più nulla, ma l'unificazione tra i migliori metodi, chi ha la triade c'è anche la super triade d'oro, ma in particolar modo il top super, ok, sono tre ambiga e la sigla è male la pena, ma in modo veloce, ma non si tratta di attendere chissà quanta cosa, ma questo solo quando la condizione è ottima, io vi sto facendo il video nonostante, stiamo punti per entrare, giornate di divertimento, da Leone a tutti, ciao!